Allora ragazzi torniamo finalmente a ripartire Come vedete le mie spalle Non so c'è una sorpresa non so cosa sta succedendo Comunque ricominciamo il mese di maggio a breve a ritrovarci Continuate sempre a seguirci qui non so qua dietro vogliamo fare intravedere qualcosa No 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 non svegliamo niente Ragazzi seguiteci sempre che da maggio Romagna Boys riparte Approfittiamo per presentare un nuovo socio del club Provità 2021 anche di animali Eeeeeeeh Eeeeeeeh Passa Grazie a tutti Grazie a tutti